partiti in vantaggio Kilgoshai davanti a Whipper Express, Canal Grande Dubai Days, Slow Cavern Diamond Street, Garinei e San Vicenzo all'inizio della prima curva in leggero vantaggio Kilgoshai davanti a Whipper Express Canal Grande Dubai Days Desert, Whipper Diamond Street, Slow Cavern Garinei e San Vicenzo al termine della prima curva prosegue in vantaggio Kilgoshai davanti a Whipper Express, Canal Grande Dubai Desert Slow Cavern Diamond Street Garinei e San Vicenzo dopo mille metri di corsa è sempre in vantaggio Kilgoshai davanti a Whipper Express, Canal Grande Dubai Days, Slow Cavern San Vicenzo, Garinei e Diamond Street e Diamond Street All'inizio della seconda curva prosegue in vantaggio Kilgoshai davanti a Whipper Express, Canal Grande San Vicenzo San Vicenzo San Vicenzo, Slow Cavern, Garinei Dubai Desert e Diamond Street poco prima dell'ingresso indirittura è sempre in vantaggio Kilgoshai davanti a Whipper Express San Vicenzo e Canal Grande i cavalli entrano in dirittura con Kilgoshai con Kilgoshai in vantaggio lungo la corda davanti a San Vicenzo a centro pista più indietro Slow Cavern Dubai Desert Whipper Express Garinei passa San Vicenzo davanti a Slow Cavern Kilgoshai Whipper Express Garinei e Dubai Desert in vantaggio San Vicenzo davanti a Slow Cavern Whipper Express e Garinei resiste San Vicenzo davanti a Slow Cavern e Garinei e Garinei Grazie. Grazie. Grazie.